Vedi come il caffè scende piano piano? Intenso, corposo... Com'è? Ma è buonissimo! Bella pazza a modo mio! Questo parla italiano! Senti che dice? Provami! Assaggiami! Amami! Sposami! 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 Però prima un po' si fidanziamo! Bello! Così a Natale mi fai il regalo? Eh, a Natale! Eh! Ma perché è già a Natale? Tanti auguri! Sì